La decisione definitiva quindi formalmente non è iscritto nell'ordine del giorno ma è sicuramente uno dei temi, in assoluto il tema che ci sta impegnando di più a livello di trattative, è una trattativa molto serrata e penso che la posizione italiana sia una posizione chiara che tra l'altro viene compresa e rispettata. Non so fino a dove si riuscirà ad arrivare nel tentativo di trovare una sintesi tra posizioni che in partenza sono molto distanti, però io credo che l'Italia stia ponendo una questione che non è il tentativo di modificare il patto proposto da una nazione che vuole spendere liberamente soldi a pioggia senza senso. Noi da una parte abbiamo dimostrato con il lavoro che abbiamo fatto in questo anno e più la serietà con la quale affrontiamo le materie di bilancio, dall'altra la questione che poniamo è una questione che va nell'interesse non solamente dell'Italia ma dell'Europa intera ed è abbastanza semplice. Grazie a tutti.